Mi siete mai chiesti perché esistono così tanti diversi diffusori di luce? Vediamo in questo video quali sono le differenze tra softbox, ombrelli, beautydish e diffusori vari. Sicuramente se siete all'interno del mondo della fotografia avrete notato che sul mercato esistono davvero tantissime tipologie di diffusori di luce. Questo perché ci permettono ovviamente di combinarli insieme ma soprattutto di ottenere tantissime tipologie di schemi luce. In questo video non staremo lì ad analizzare come realizzare la luce in una fotografia, bensì analizzeremo quali sono le differenze e soprattutto cosa comporta il cambio di diffusore di luce. È per questo che ho realizzato questo setup luce, soprattutto la luce non la muoverò da lì, se non magari avvicinandola in alcune occasioni, però vi farò capire esattamente qual è la differenza sia nella luce che colpisce il soggetto ma soprattutto in cosa il soggetto proietta. Ed è per questo che sono molto attaccato al muro qui alle mie spalle e soprattutto ho posizionato la luce lateralmente così da farvi vedere per bene quella che è l'ombra proiettata sul muro, così da capire anche quali sono le differenze. Come vedete dall'altra inquadratura al momento sto utilizzando semplicemente un disco davanti a quello che è un faretto fotografico. Ovviamente è inutile in questo caso stare lì a scattare fotografie perché dato che a foto e video la resa sarà esattamente la stessa, quindi vi faccio notare le differenze proprio così mentre parlo, il che forse rende ancora meglio, soprattutto perché muovendomi eccetera riuscite a capire cosa cambia sul mio volto. Innanzitutto la luce che state vedendo colpirmi è molto dura ed è una luce che proietta un'ombra molto netta, quasi come fosse una luce solare, anche se l'ombra qui alle mie spalle non è proprio definitissima, ma vedremo poi in futuro come ottenere tramite una soluzione molto economica quella che è una luce solare vera e propria in studio. Tornando quindi a parlare di questa tipologia di luce, questa è una luce semplicemente molto dura che proietta anche sul mio viso ovviamente delle ombre molto dure e può essere utilizzata soprattutto per quelle fotografie dove è richiesto un aspetto un po' più drammatico oppure appunto la simulazione di quella che è la luce esterna in studio. Ovviamente la tipologia di luce si può applicare sia per quanto riguarda quelli che sono ritratti veri e propri oppure anche delle figure intere perché no ovviamente anche su fotografia still life. Se ovviamente utilizziamo questa luce ed aggiungiamo un pannello diffusore come quello che state vedendo tramite la seconda fotocamera vi farò vedere come già così possiamo diffondere meglio la luce e ottenere quello che è una versione di un softbox molto economica. Al momento ho posizionato quello che è il pannello diffusore molto vicino alla luce e come potete vedere già l'ombra qui alle mie spalle risulta essere molto più schiarita e soprattutto meno netta ma soprattutto anche la luce sul mio viso risulta essere molto già più morbida. Ovviamente quello che non ho detto prima è che questa tipologia di luce genererà nei miei occhi quello che è un piccolo puntino riflesso mentre già aggiungendo il diffusore stiamo andando ad ampliare mano a mano quella che è la diffusione della luce stessa infatti man mano che allontanerò quello che è il diffusore dalla sorgente di luce principale otterrò sempre una luce più morbida e soffusa questo perché ovviamente stiamo ampliando quella che è la sorgente di luce che colpisce il soggetto così appunto ad avere una luce molto più morbida. In questo caso infatti ho allontanato leggermente di più dalla sorgente quello che è il diffusore come potete vedere l'ombra va man mano schiarendosi e soprattutto anche la luce diventa più morbida vediamo adesso quindi ottenendo la massima diffusione del pannello quali sono le differenze questo è il pannello ben distaccato da quella che è la sorgente di luce come potete vedere l'ombra alle mie spalle sta quasi scomparendo o meglio è diventata molto più morbida e soprattutto la luce sul mio viso sta iniziando a schiarire anche la parte che prima aveva un'ombra molto dura questa perché ovviamente il pannello di diffusione è molto ampio e soprattutto mi permette di andare ad aumentare la superficie di quella che è la luce che sta colpendo il soggetto cosa molto importante perché andrà a realizzare una luce molto morbida e questo setup di luce può essere utilizzato anche per quanto riguarda la fotografia still life dove è molte volte importante ottenere quella che è una luce super morbida passiamo adesso ad analizzare quello che è un prossimo diffusore di luce sto parlando di un semplicissimo ombrello bianco e vedremo poi anche qual è la differenza con un ombrello argentato riflettente questa qui è la luce che mi garantisce un ombrello bianco come vedete dalla seconda fotocamera posizionato davanti al soggetto ovviamente in maniera diffusa e questo vuol dire che la luce passa attraverso l'ombrello e non viene riflessa dall'ombrello stesso le differenze saranno minime dato che l'ombrello è bianco con una piccola accentuazione di quella che è la durezza delle ombre e della luce stessa nel caso in cui utilizzassimo l'ombrello al contrario in questo caso l'ombrello è il metodo più economico per diffondere quella che è una sorgente di luce che in questo caso potrebbe provenire da un flash, da una luce continua o anche da un faretto per video e questo ci permette soprattutto di avere una soluzione molto portatile ed economica appunto per realizzare i nostri scatti vediamo adesso invece qual è la differenza utilizzando un ombrello argentato questa invece è la luce che otteniamo da un ombrello argentato ovviamente riposto in maniera opposta dato che altrimenti non lascerebbe passare quella che è la luce attraverso l'ombrello stesso questa è una luce un po' particolare soprattutto se utilizziamo ombrelli molto economici andrà a creare dei riflessi diciamo non proprio piacevoli da vedere in fotografie soprattutto come vedete dalla mia ombra qui alle mie spalle ottengo una sorta di effetto sdoppiatore dell'ombra anche perché in realtà va a creare molte più ombre con una concentrazione maggiore di quella che è l'ombra centrale questa luce può essere interessante per creare delle fotografie un po' più creative per quanto riguarda l'illuminazione sul soggetto come potete vedere appunto dall'inquadratura semplicemente abbiamo una luce seminura quindi non è diretta al soggetto ma è riflessa appunto dalla parte argentata che va comunque a riflettere la luce in maniera un po' randomica concentrandola comunque in una determinata area quali sono effettivamente le differenze tra un ombrello bianco ovvero trasparente e un ombrello appunto argentato innanzitutto la luce con l'ombrello argentato è un po' più dura rispetto all'altro ombrello ma soprattutto questo è in grado di non lasciar passare la luce attraverso questo vuol dire che abbiamo già la funzionalità di una sorta di softbox dato che l'intenzione del softbox è quella di indirizzare tutta la luce verso il soggetto senza lasciar disperdere all'interno dell'ambiente quella che è la luce proveniente dalla sorgente stessa cosa che invece ovviamente avviene con l'ombrello dato che questo oltre a garantirci l'illuminazione sul soggetto andrà a illuminare tutto l'ambiente circostante e questo non sempre è voluto soprattutto perché andrà a schiarire a sua volta quella che è l'ombra alle spalle magari uno cerca una luce diffusa sul soggetto bensì poi non vuole quella che è la luce ambiente dovuta al fatto che l'ombrello sta riflettendo la luce questo si può avviare in semplici modi ovviamente o utilizzando un ombrello softbox o semplicemente posizionando sul retro dell'ombrello quello che può essere un telo nero per andare a mascherare la luce mentre questo non avviene ovviamente con l'ombrello argentato dato che attraverso la luce non passa però avrà comunque un angolo di diffusione molto ampio dato che non è presente una sorta di profondità dell'ombrello stesso che va a indirizzare la luce o meglio non è presente appunto la forma del softbox stesso che è quella appunto di creare una sorta di profondità e soprattutto aggiungendo poi una griglia possiamo indirizzare meglio la luce verso il soggetto analizziamo il prossimo metodo di diffusione ovvero il softbox vero e proprio questa è la luce di un softbox e come potete vedere ovviamente la luce è dura perché non ho posizionato alcun pannello di diffusione davanti al softbox stesso questo per capire ovviamente i vari step posizionando prima il primo pannello di diffusione poi anche il secondo e quindi capiremo quali sono le differenze tenete conto che la luce in questo caso è posizionata a medio distanza dal soggetto ma più ovviamente avvicinate la luce al soggetto più l'effetto sarà accentuato più l'allontanate e seppur diffusa risulterà comunque essere più una luce puntiforme dato che sarà parecchio lontana quindi la luce funziona sempre meglio quando è parecchio vicina al soggetto dato che più vogliamo diffonderla e più è vicina più il risultato sarà migliore in questo caso ovviamente la luce è dura e il softbox l'unica cosa che ci garantisce è questa sorta di ombra sdoppiata a sua volta perché ovviamente i pannelli argentati interni stanno riflettendo quella che è la luce proveniente dalla lampada principale proviamo adesso ad aggiungere quello che è il primo pannello di diffusione interno e vediamo quali sono le differenze come potete vedere aggiungendo la veletta interna la luce risulta essere già molto più morbida anche come potete notare dall'ombra qui presente alle mie spalle questa ci va a garantire comunque una luce più morbida bensì comunque resti abbastanza dura dato che la veletta va a diffondere la luce ma a sua volta il softbox continua a riflettere la luce verso il soggetto tramite la parte argentata aggiungendo anche quella che è la seconda veletta davanti al softbox otterremo finalmente una luce molto morbida ecco infatti come si vede anche dall'ombra alle mie spalle stiamo ottenendo una luce davvero molto morbida e come vi dicevo prima nel caso in cui dovessi avvicinare la luce al soggetto avremo un'ombra sempre meno definita dato che il softbox è in grado da tutte le direzioni di schiarire anche quello che è la parte presente alle mie spalle e soprattutto sul viso come potete vedere sto aumentando la diffusione della luce e questo mi permette di ottenere una luce ancora più morbida passiamo adesso ad analizzare quello che è il prossimo metodo di diffusione della luce e sto parlando di un beauty dish per chi non lo sapesse un beauty dish è semplicemente un disco realizzato in alluminio che ha questa particolare forma infatti presenta la forma di un disco mentre al centro qui davanti è presente una sorta di parabola interna che ci permette quindi di riflettere la luce a sua volta all'interno del disco stesso e poi diffonderla sia in maniera dura senza l'utilizzo di alcuna veletta ma soprattutto anche in maniera più morbida tramite l'utilizzo di una veletta perché ci è utile questo disco? perché innanzitutto è piccolino soprattutto ottimo per quella che è la fotografia di nitrato dato che posizionandolo molto vicino al soggetto ci va a garantire una luce un po' più drammatica ma soffusa allo stesso tempo questa è la luce prodotta dal beauty dish e ovviamente è possibile modificare a sua volta la luce come dicevo prima anche tramite l'utilizzo di un pannello diffusore o perché no anche avvicinando e allontanando quello che è la parabola interna presente al beauty dish stesso e questo ci permetterà di andare a rendere la luce leggermente un po' più dura o leggermente un po' più morbida e soprattutto ampliare quello che è il disco di diffusione della luce come potete vedere osservate bene quella che è l'ombra qui alle mie spalle se vado ad avvicinare quello che è il disco interno ovviamente alla sorgente di luce ottengo una luce leggermente un po' più dura anche se le differenze saranno quasi impercettibili l'unica cosa che varierà sarà l'angolo di diffusione della luce come potete vedere dall'arco qui presente ecco infatti la differenza si riesce a notare proviamo adesso a posizionare quello che è un pannello di diffusore davanti al beauty dish stesso e come potete vedere ovviamente ottengo una luce molto più diffusa e morbida ma allo stesso tempo mi va a generare quest'ombra abbastanza definita il che nei ritratti vi assicura una luce davvero molto interessante forse è la luce che preferisco di più infatti il beauty dish è davvero un metodo di diffusione molto interessante e più è grande più avrà questo effetto drammatico diffuso che davvero adoro per i ritratti l'ultimo metodo di diffusione della luce più utilizzato è quello di un deep softbox in questo caso ho montato tutte e due le velette sul softbox stesso in più ho aggiunto anche una griglia di diffusione perché voglio farvi capire quali sono le differenze rispetto a un softbox quadrato o rettangolare e in questo caso capiamo anche come la luce poi va a diffondersi sul soggetto e a colpirlo come potete vedere quindi ho questo softbox gigante posizionato davanti alla mia faccia in più è presente sul davanti la griglia questo cosa permette di fare? come potete vedere qui alla mia destra è presente questa sorta di vignettatura naturale dovuta dalla luce questo è dovuto proprio all'utilizzo della griglia che va quindi a indirizzare la luce verso il soggetto permette quindi di avere una luce morbidissima ma allo stesso tempo indirizzata verso il soggetto e questa è davvero molto particolare perché soprattutto anche nella fotografia creativa ci permette di appunto indirizzare la luce solo verso il soggetto e questo tipo di luci vengono utilizzate anche molto nei film e nei cinema dove appunto non è necessario avere quella che è la luce ambiente dato che comunque le luci più drammatiche indirizzate allo stesso tempo anche soffuse rendono comunque una sorta di tridimensionalità e profondità alla scena stessa in questo caso ovviamente sto illuminando solo un soggetto ma immaginatevi all'interno di un contesto dove appunto voglio illuminare solamente me stesso e magari non questa parte di non so libreria, parete o qualsiasi cosa ci sarà su questa parte dell'immagine appunto questo ci permette di fare questa cosa ovviamente in questo caso se andassi a rimuovere quella che è la veletta interna o ancora l'altra veletta semplicemente otterremo lo stesso effetto del softbox rettangolare in più con la differenza che ovviamente in questo caso il riflesso all'interno degli occhi sarà rotondo piuttosto che avere un riflesso rettangolare quindi spigoloso per quanto riguarda il metodo di diffusione di luce il softbox quadrato o rettangolare o rotondo con la griglia avanti più o meno hanno lo stesso effetto appunto cambia che più è grande più la luce sarà morbida e diffusa io spero che questo video vi abbia aiutato a capire meglio come funzionano i vari tipi di diffusore di luce ovviamente ne esistono molti altri ma ho voluto semplicemente provare e mostrarvi quelli che sono appunto i più utilizzati se questo video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un mi piace ed iscriverti al mio canale per non perderti nessun nuovo episodio noi ci vediamo in un prossimo appuntamento un saluto a tutti ciao da Marco ciao